Salve a tutti i gentili di Zexy, di oggi questo nuovissimo video Ragazzi, in questo nuovo video stiamo per cominciare una nuova serie E' la quindicisima volta che cerco di fare questo video, però Volevo veramente cominciarla, è una serie vanilla Ehm, non so il nome, quindi per adesso lo chiamerò Minecraft Ita Anzi così perché fa più figo, ok Allora, sopravvivenza naturalmente Comandi, no Ehm, strutture, sì Tipo normale, sì E baule, sì Ok ragazzi, direi che possiamo cominciare se sentite con la voce un po' così Perché ho molto mal di gola E quindi possiamo cominciare Ok, bene Siamo spawnati No, che brutto seed No, che brutto seed Oh, canne di zucchero Non posso inserire E intanto prendo gli alberi Perché regà Sicuramente mi muoverò con la barca Perché non mi piace proprio Ragazzi, allora Per questo nuovo episodio Dovete mettere almeno 5 like Anzi no, facciamo 7 Eh, almeno 7 like per il nuovo episodio Per continuare questa serie Perché Aspetta, forse là c'è qualcosa Solo un'isola Boh, non lo so Alla mettere meglio Ok, bene Allora Ho un bel po' di legno Però mi prendo tutto Così Se non trovo niente Almeno posso sopravvivere Con un po' dei blocchi Ok, allora Mi faccio la crafting La prima crafting Di questa serie Lo faccio con questo Tanto basta Ok Questo legno Tanto me non piace Ok, allora Tac E tac Faccio Così Faccio Così No, il piccolo ce l'avevo già metto Coglione Ok E faccio Così Ok Vediamo se è la così carica Facciamo un cartello Così quando arriverò A un tot di episodi Farò la scritta qua Sono spavolato qui Bene Non so che era Non era così Ma era Ho sbaglio il cartello Era così Questo? Sì, ok Sono Spavolato Cui No Cui Epp Uno Rompiamola E andiamo di là Se non sbaglio Sì Ditemi dove volete Che faccio la casa Adesso ne faccio Magari una Dentro Che ne so Dentro quella montagna No No Me la faccio la sopra Io la casa Non mi interessa Mi alzo No no Regà Di se potete che me la faccio la sopra E alzo tipo una cosa Me la faccio in cielo La mia base in cielo Poi Oppure me la faccio Dietro la lava Qua dentro O me la faccio in superficie Normalmente Oppure Dentro una caverna Non l'ho già detto O ditemi voi Qua sotto In O la casa sull'albero O là Ma io penso che Per adesso me la faccio dentro Qua la montagna Oppure me faccio una casettina piccola Però penso che mi alzerò Tipo un posto là Cioè un Un pillar là Me la faccio la sopra Bene Sì sì Figo figo Me la faccio qua Per adesso Non faccio nulla Ma Dimmi dove la volete Che me la faccio In cielo Ma io C'avrei già un'idea Figa figa Però qua Mi piace Mi piace tantissimo Bene bene Allora Per adesso Mi rompo un po' qua Per votare Dovete cliccare Dove sto Dove il dito Sta indicando No No Non c'è Sta affannotte Noi se piazziamo C'ho quattro torci Una qua Una qua E Una qua dentro Ok bene Allora Andiamo a esplorare Magari ci sia qualche minerale Però Carbone Può servir Anzi no Serve perché Sennò non posso fare torci Oppure mi serve il legno Però sta a quell'altra isola Legno Quindi da un po' lontano Ok Stanno gli alberi Però del legno C'è l'abbastanza Però è strano St'erba Perché così Vabbè Non cazzo Eh ma No mi sta già punta Mi sta già punta Mi sta già punta No muori 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 E dai E mori No dai Non posso morire Ok mi guarda covrì subito Queste sono Via 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 Ok bene Ok fornace Lo metto qua sopra Ben illuminato E aspetto che fa giorno Ero cerchiato Bene sto facendo il giorno Io qua chiudo Comunque Senti faccio una cosa No Bellissimo Non so Ma taci No 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 Si è buggato Ok No Bene adesso devo Oh una caverna Buono Non l'avevo visto Ok adesso devo Devo rientrare in casa Spiro che mob Se ne sono andati Si se ne sono andati Comunque Ragazzi Se volete Alcuni episodi Di questa serie Proprio in live Scrivetemelo In chat Anzi no Ve lo metto adesso Così come Votazione Episodi più lunghi Cioè Scusate Episodi in live Li volete alcuni episodi in live Certo Li farò tutti in live Però Alcuni in live Li volete Mettetemelo qua Regà So stupido Mi è appena venuta una cosa in mente Quando stavamo risa lì Che eravamo morti Avevo visto una caverna Ma senza che me la scavo io Vado là direttamente Sono un pirla Vabbò Piazziamo un po' di torce Andiamo qua C'è stata un'altra entrata Oh buono Carboni ci serve Allora Se non sbaglio Per prendi Per farsi tutta l'armatura Serve 20 di ferro Quindi Prenderò tipo Cercherò tipo De prendi 30 Per farmi anche magari Qualche utensili Devo piccone la spada Mi bastano solo quelli Tanto dopo ne troverò altro E ci farò anche l'altra roba Allora Mi sa che adesso vado là Che Oh ecco ferro Buono buono Allora c'è tre pezzi Con se non è più Ok bene Sento rumori molesti Non mi piacciono Ma se sentono Non lo so Aspettate Fatemi un po' inalzare Il volume Ok no Sta abbastanza alta Buono Buoni pezzi di ferro Che possono servire Sempre Oh Ah bello figo 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 Bello figo Bello figo Bello Ok Mi sa che qua ci metterò Tipo un pannello di vetro Se almeno Almeno che non volete Che io ci faccia la casa Però non Non mi piace molto Come idea Più che altro Io farei una casa In cielo Che si è spesa in aria Che è una figata assurda Ok si qua Penso che ci metterò Se sentite il rumore È mio fratello Che suona Quel basso Quindi Lasciate perdere Lasciate perdere Ok si figo Un po' che blocco E vi faccio in aria E vi faccio in aria E vi faccio in aria Ciao